E' partita la Fanogeo 2017 che si prolungherà fino a domani. Sì, partita questa mattina con un bel successo dei bambini che vengono a fare questi momenti di didattica. Domani ci aspetta una grande giornata a partire dalla mattina con tante aree tematiche, animali, falconieri, il cavallo del cate, il battesimo della sella che sarà bellissimo con i ragazzi delle giacche verdi. Al pomeriggio vi aspettiamo perché è un bellissimo spettacolo, quello dei cani da pastore, quindi avremo questi cani che andranno a prendersi le pecore e le porteranno nel recinto. Quindi veramente un bel punto di vista sul mondo dell'agricoltura, oltre 60 espositori presenti, quindi vi aspettiamo tutti.